Amici di Youtube e di Instagram, buongiorno a tutti quanti, buongiorno e buon martedì 23 luglio 2024, buon giorno a tutti quanti, edizione giornaliera sempre presente sul canale, da portare avanti al consueto appuntamento, campioni d'Italia doppiamente stellati. Oggi presentata ufficialmente finalmente la maglia per la prossima stagione, la prima maglia ormai dai leak sui social la conoscevamo già a memoria, però è arrivata la presentazione, maglia già in vendita all'Interstore, vendita libera all'Interstore per chi volesse andare ad acquistare subito La maglia senza cincischiare e sul sito invece libera ai soci Interclub e agli abbonati la maglia di quest'anno, sicuramente io sapete come la penso, una maglia che non è che mi entusiasmi così tanto Quest'anno secondo me ci voleva poco per fare una, diciamo, per fare una prodezza e una maglia diciamo più elegante con l'oro Con una maglia così importante come quella della seconda stella, con lo scudo tra l'altro sul cuore e non sul petto, anche quella è una scelta che diciamo un po' destra qualche sospetto Però sicuramente le linee oblique sono e richiamano il riferimento alle rampe di San Siro in cui abbiamo conquistato le storiche due stelle contro la rivale sbattendogliele in faccia Certo che forse in un'annata come quella che deve venire, magari una maglia più classica sarebbe stata la scelta migliore, chi lo sa, chi lo sa Beh, maglia che sicuramente comprerò, però se proprio proprio avrei preferito magari una maglia ancora più basic con le strisce verticali nero azzurre Poi io sono da quel lato lì, sono un po' uno arretrato, ma non è che non mi piacciono gli esperimenti Però la cosa che non mi va proprio al genio è che ogni volta che dobbiamo, insomma, forse solo l'unico, l'unica volta è stata l'anno del triplete Perché l'anno del triplete dopo lo scudetto, dopo il primo scudo di Murigno la maglia era fantastica con le strisce normali nero azzurre Quindi quell'anno lì comunque la maglia era abbastanza, diciamo, soft Già l'anno dopo invece abbiamo voluto complicarci lì con quelle strisce tutte quasi zigzag, quasi barocche Parlo dell'anno chiaramente di Benitez, già quella maglia lì non è che era proprio bellissima Quindi ogni volta che poi si consegue uno scudetto bisogna sempre fare degli esperimenti A me questa cosa qua non piace tanto, per esempio, già dopo lo scudetto di Conte si era andati verso la decisione di una maglia con le squame Che non era male, perché almeno quella era un po' una scelta innovativa, no? Con le squame del serpente, del biscione, quindi quella, tra l'altro, come tutte Quindi quella, devo essere sincero, era un po' più innovativa, più carina Anche se, comunque, ripeto ancora, con lo scudetto la maglia deve essere un po' più, come si dice, un po' più status symbol Cioè una maglia che riechegge e richiama il vero senso dell'interismo e la vera passione nero-azzurra con le maglie a strisce nero-blu Ora, sicuramente quella di quest'anno è una maglia che è stata un po' sperimentata Secondo me però quest'anno non era l'anno per andare sugli esperimenti Poi, le rampe di San Siro sono, cioè, una bella idea sicuramente Anche il pantaloncino molto bello Ma lo stemma sul petto Boh, io avrei preferito sul cuore con lo scudo al petto e con le due stelle Ho due stelle d'oro sul mio petto, son cucite sopra lo scudetto Che umiliazione, che figuraccia, quella stella te l'ho vinta in faccia Oh bandito, topo di fogna, di Milano sei la vergogna Me neghi nella tradizione, tu piangina ed io campione La 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 Quindi è proprio vero, ho due stelle d'oro sul mio petto, son cucite sopra lo scudetto Poi, la presentazione di oggi, tra l'altro già domani sarà la giornata degli italiani Degli azzurri che torneranno a fare la preparazione ad appiano Barellino, Basto, Darmiane, Frattesi e Dimash La presentazione con questi tre uomini qua Questi tre Questi tre campioncini che solo noi possiamo permettere E di avere questo vanto di avere in squadra Tre top player, campioni generazionali Che vogliono tutti, tutte le big europee Accorteggiarli Ce li abbiamo noi, spiazze Spiazze ma ce li abbiamo noi Perché bisogna mettere le cose in chiaro Poi tra l'altro I numeri di maglia Anche per Tremi e Zielinski Beh beh, per Tremi sappiamo già da tanto tempo La 99 ufficializzata per Zielinski anche qui Dopo l'amichevole di ieri Eccola qua la 7 La foto dall'Interstore Una 7 che tra l'altro Ieri dicevo nel video Che è una maglia Che non è proprio sempre stata fortunata Io mi ricordo Cancelo Dopo Figo Ce l'ha avuto anche Quaresma La prima maglia di Zanetti Era proprio la 7 tra l'altro La prima maglia di Pupio appena arrivò Era la 7 Quindi Sicuramente una maglia Ereditata Non diciamo nella massima fortuna Ma Gli mandiamo quindi un grande in bocca al lupo A Zielinski Che ha fatto ieri un amichevole Una prova molto buona Nonostante chiaramente le gambe erano pesanti Le gambe erano pesanti un po' di tutti Tranne quelle Di Mkhitaryan e dell'Arciere Persiano Che hanno lavorato Hanno iniziato a lavorare H24 Da inizio ritiro Con il Demone di Piacenza Ad Appiano E poi i risultati Chiaramente nell'amichevole Già si vedono Per il resto Si vedevano insomma Le gambe pesanti E il calcio di Luglio Ma un Taremi Che Ha avuto un'occasione da gol E l'ha buttata dentro Cioè Taremi Ha fatto praticamente Il primo tiro in porta E l'unico del primo tempo Davanti alla porta La vera prima vera Unica occasione Non ha sbagliato E questo È importante Sarà importante Per l'anno prossimo Perché è un attaccante Ripeto ancora Il terzo attaccante Di fama internazionale Profilo Europeo E Il cinismo Dell'Arciere Persiano Potrebbe essere Risultare molto decisivo Perché è un giocatore Che conosciamo bene Ne abbiamo già parlato Non me lo aspettavo Così movimentato Così mobile Fluido nei movimenti Me lo aspettavo Un po' più dinamico Invece Devo dire la verità È uno che Ha il gol nel sangue È più coinvolto Nelle azioni Da Trequartista Offensivo Aggiunto Sarà Un divertimento Vederlo In campo Quest'anno E Ripeto ancora Unica occasione L'ha buttata dentro Tre goli in due partite Insomma Da sottolineare Veramente Il cinismo E Io perché L'ho chiamato Arciere Persiano Perché vede la porta Perché l'Arciere Cosa fa? Fa centro Al tiro con l'arco E L'Arciere Persiano Meditaremi Fa centro Nella porta di San Siro Pronta E Pronto a far godere E esultare Tutta la Nord E esultare Sotto la curva Con tutto lo stadio Che canterà Il coro Per Taremi Che Non è ancora uscito Aspettiamo Chiaramente La prima di campionato Poi Detto questo Quindi Anche un Zielinski Ripeto ancora Che non doveva neanche giocare Perché è arrivato Pochissimi giorni fa E già comunque Hai visto Il tocco di palla La visione di gioco Un giocatore che Hai visto Tranquillamente Che qualità Ha superiori Alla media Certo non ce ne accorgiamo Oggi E Un Berenbrook Della primavera Che Ha fatto La seconda Uscita Stagionale Passata A pieni voti E un Topalovic Che poi ha preso Minuti Verso Il secondo tempo Però Berenbrook Devo essere sincero Ha rubato veramente La scena Tra Le nuove leve La new generation Era azzurra Con La seconda Ottima gara Kamate Da esterno Ha fatto una buonissima partita Nonostante anche lui Abbia giocato fuori ruolo Come Agumet Che È stato inserito Nei tre centrali Ieri contro la Pergolettese Tra l'altro Come centrale puro Perché poi Avevi Da una parte Bissek E dall'altra Fontana Rosa Centrale Agume Che non ha Sfigurato Anzi ha fatto Una buonissima gara A questo punto Se a Cerbi Non dovesse Rientrare in gruppo Subito Vorrei Vederlo anche A Cesena Con il Las Palmas Il 27 Sabato Che sarà il primo Vero test Con un avversario Di Fascia magari Più alta Rispetto a Lugano E la Pergolettese E Fontana Rosa Che sento Su Twitter In giro Criticato Aspramente A me Invece Ha fatto una bella impressione In fase di spinta In copertura Poi certo Non è che adesso Voglio dare più valore A quella Che è una Semplice Amichevole Anzi Allenamento congiunto Tra L'Inter La Pergolettese Di Cremona Però Comunque Insomma Le qualità poi Dei giocatori Si vedono E io Ripeto ancora Con questo organico Ma ne vale Veramente la pena Continuare a Mandare in prestito I nostri gioielli Continuare il percorso Di Prestiti In B Prestiti All'estero Prestiti in Serie A Con pochissimi minuti A meno che Si trovano Delle occasioni Di mercato Per delle cessioni È un conto Però Sappiamo Le ambizioni Dell'Inter Sappiamo Che Come tutte le big europee La maggior parte Devono vincere subito Quindi È normale Che Uno non può Aspettare Due o tre anni Un giovane Della primavera Appunto per questo Ci vorrebbe come il pane L'Under 23 Ci vorrebbe come il pane La seconda squadra Che Dall'anno prossimo L'Inter Inizierà ad avviare Le pratiche Per La riuscita Della seconda squadra In Serie C In Serie D Però c'è da dire Che È un Diciamo È un processo Che Diciamo Porta Tanto tempo Perché Per esempio Il Milan Abbiamo visto Quest'anno Ha sfruttato Il fallimento Dell'Ancona Che non Si è potuto Iscrivere Al campionato E quindi Ha sfruttato Questo slot Per iscriversi Con la seconda squadra Non è Diciamo Sono delle pratiche Che comportano Un tempo Non Breve Quindi Vedremo Ecco Gli sviluppi Però Con questo organico Qua Veramente serve Secondo me Nella maniera Più assoluta La seconda squadra Per continuare Il progetto Di crescita Per giocatori Che comunque Vedi Anche Quando vanno All'estero Nel caso di Stankovic Nel caso di Oristanio Quando sono andati In Olanda A giocare Si sono presi Gli occhi Di tutti Gli appassionati Di calcio Olandesi Con una grandissima Stagione Poi l'hai visto Quest'anno Alla Samp Sembra sparito Stankovic In B Oristanio Ha fatto benino Al Cagliari Però con pochissimi Minuti Fabiano Al Bologna Uguale Carboni Al Monza Peggio Mi sento Esposito Quest'anno Seba Andrà Andato Già All'Empoli Ufficializzato 3-4 giorni Fa Però Devo essere Sincero Non ne vale La pena Continuare Questo giro Di prestiti Sarebbe L'ideale Secondo me Continuare E Iniziare Questo progetto Under 23 Poi Quindi Poi Ha entrato Aidu Che ha giocato Sulla sinistra Molto bene Molto bene Aslani Secondo me Ha fatto una buona partita Nonostante Chiaramente Ha provato Con 3 o 4 Iniziative Palle alte Tiri Fuori Però Tra l'altro Poi in allenamento Ma tutti lo dicono E tanti lo dicono Che Aslani In allenamento Tira fuori il medio Di 6 Poi in partita Magari è un po' più timido Però Nell'allenamento Già ieri Hai visto Quell'azione Che Sulla Sulla tre quarti Dove se la alza Con il sinistro Palleggia Se la posiziona E se la giusta Con la testa E poi Fa partire Una bordata al volo Fuori di pochissimo Dal secondo palo Cioè sono giocate Che Solo un talento Come quello di Christian Può produrre Poi è normale Che Per quanto riguarda Il discorso di Aslani Continua a dire Che è un mediano E ricorda molto Brozovic Ma Nella versione Meno sicura Perché Aslani preferisce Perdere più Quel tempo di gioco E Dare la palla In orizzontale E fare comunque Iniziare delle fitte Reti di passaggi Semplici Piuttosto che Verticalizzare subito Come fa Uno come Cialanoglu Questo non è un limite Del giocatore Non è neanche Una Una sorta di timidezza Forse un po' di mancanza Di personalità Che Tante volte Non ha inciso Anche se comunque L'anno scorso Cioè quest'anno appena passato Ha contribuito Alla vittoria Dello Scudetto Oltre al gol Bellissimo Con il Genoa Meritatissimo Perché poi tra l'altro È il primo Della sua carriera All'Inter Poi Quando entra con la Roma Mette quella palla fantastica Per Di Marco Che la mette dentro Per Turam E vinciamo a Roma 1-0 Contro L'infame La grandissima gara Con la Fiorentina Firenze Con tre quarti Di rosa fuori Cioè Aslani Quest'anno Ha fatto una grande stagione Secondo il mio punto di vista Ora Certo Inzaghi Forse Forse Io ripeto ancora Forse Forse L'interessamento Per Tesman Poteva essere Magari una Sorte di vice Ciala Per l'anno prossimo Quando Aslani Si potrebbe liberare Però Se ad oggi Aslani Ha un valore di mercato Di 35 milioni È perché Comunque Si vede L'impatto E la crescita E i valori Apportati dal mister Nel ragazzo Perché è un giocatore Che comunque Sta facendo pian piano Tanti upgrade I giocatori I mediani Non è che diventano forti subito Cioè Rodri Cialanoglu Che ha iniziato a scoprire Di essere Uno dei più forti mediani A quasi 30 anni Rodri Uguale Certo Di profili magari Giovani Alla portata Si dice Zubimendi Ma Zubimendi C'ha 25 anni Adesso si è dad Cioè Aslani Ne ha 23 Quindi voglio dire A meno che Non nasci subito Un fenomeno Generazionale Ma Pochi casi Nel ruolo di mediano I mediani I registi Iniziano il loro percorso Di crescita E di maturazione Dai 25 anni in poi Bene bene male Anzi forse anche più tardi Quindi Su Aslani Continuo a ripetere Che secondo me Abbiamo un grande pezzo Pregiato Bisognerà vedere poi Le valutazioni del mister Che secondo me Non lo vede tanto bene Perché Comunque Questo è il secondo anno L'anno scorso Ha giocato poco Ma Perché Tante volte Gli veniva Gli veniva preferito Gagliardini Quest'anno invece Non vale più La scusa Del Ah no Non lo vede Non lo vede Quest'anno invece Ha giocato Tanti spezzoni Però ecco Magari Con meno continuità Sicuramente L'anno prossimo Potrebbe essere Secondo me La stagione Di Aslani Con tutti gli impegni Che abbiamo Tutte le varie rotazioni Sarà un po' meno Forse quella di Frattesi Perché con questo Zielinski qua Con questo Mkhitaryan qua È vero che È vero che Zielinski può Anche giocare Sul centro-destra Come ha fatto Ieri Con la Pergolettese Però Con un Frattesi Che Anche lì poi Barelli e Frattesi Insieme Sono intercambiabilissimi Cioè non è vero Che sono dei doppioni Perché basta vedere Quest'anno Nelle partite in cui È subentrato Frattesi Perché Frattesi Ripeto ancora Secondo me È un grandissimo Opportunista È un giocatore Che ha il senso Del gol Quando entro Dalla panchina Per cercare Di cambiare Le carte in tavola Nell'attacco Può essere una variante Anche dietro le punte Io Frattesi Lo vedo più La trequartista Devo essere sincero Che è da mezzala Per quanto riguarda Una mezzala avanzata Come hai visto Anche In certe partite Dove Il mister Ha fatto un upgrade Quest'anno In campionato Quando eravamo sotto Quando la partita Non si sbloccava Per esempio A Verona No per esempio Col Verona A San Siro Con il grandissimo Gol di Frattesi Per esempio A Udine Con il grandissimo Gol di Frattesi Allo scadere Lì poi Hai visto Che Mettendo tre punte Avanzando Di più Frattesi Perché alla fine Frattesi Ragazzi Praticamente Ha fatto il trequartista Quando entrava Non stava Non stava Diciamo In linea di pressing Con Ciala E Barella E Mkhitaryan Stava Più alto Quindi io dico Che Frattesi L'anno prossimo Lo vedrei più Come una variante Dietro Le punte Potrei Una scelta Che potrebbe Contagiare Anche il mercato Questo Non lo possiamo Sapere Non penso Proprio Però Con Il gol Che ha fatto Quest'anno 8 gol Giocando Veramente Poco Ma Non per colpa Di nessuno Perché Hai davanti Un centrocampo Che Già giocare I minuti Che ha giocato Frattesi È già tanto E quest'anno Sarà ancora peggio Perché Con un Zelinsky Del genere Quest'anno Sarà ancora peggio Ecco Quindi Secondo me Io non mi stupirei Se Frattesi Venga un po' Spostato E avanzato Sempre a partita In corso Ripeto Ancora Che secondo me Come risorsa A pagare in corso È un giocatore Importantissimo Decisivo Col senso del gol Che vede gli inserimenti Prima di tutti Si inserisce subito È intelligente Tatticamente E anche Una grandissima tecnica Ma per quanto riguarda Del loro di mezzala Da partita in corso Ce ne sono Tanti In giro Del suo livello Forse anche più forti Questo Lo devo dire Però Insomma Poi anche lì Si sta facendo un caso Non ho capito Cos'è che voglio Non montare su Del procuratore Che lo voglia Che sembra Che lo voglia Pubblicizzare Al Napoli Però Non sono cose Che ci riguardano Visto che Non ci sono Fonti certe Poi si è parlato Anche di Zezé Il centrale del Nantes 2005 La mia età Che Interesserebbe All'Inter Dalla Francia Dicono che l'Inter Abbia già fatto L'offerta Ma non penso proprio Sugli 11 milioni Nomi che escono Come il pane Cioè Ormai praticamente Basta che Sei un Braccetto di sinistra Mancino Giovane Dal 2003 in giù Automaticamente Interessi all'Inter Quindi secondo i giornali Capite come funziona Per quello Io dico sempre Diffidate Da tutte le notizie Che escono Da tutte Le cialtronate Per esempio Ieri pomeriggio Hanno provato Ho letto un articolo Hanno provato addirittura A Parlare di un Di un secondo Pressing Su Pavard Dall'Arabia Cioè addirittura Il titolo della cessione Dell'Inter Il titolo della cessione Dell'Inter Sarà Benji Pavard Ci rendiamo conto Come Quindi Ripeto ancora Se volete Se volete Basarvi Ripeto ancora Sull'informazione Vera Sana Per quanto riguarda I colori Del cielo Della notte E anche poi Per Tutti i discorsi Di calciomercato Il mio canale Il mio canale Il mio profilo Instagram Twitter TikTok Battitointer.it Testata Giornalistica Di sane informazioni Con articoli dettagliati Sulla bene amata E poi chiaramente Barzacom.it Con gli articoli Di tutta la redazione Anche del sottoscritto Per la vera informazione Senza Farsi prendere Da facili Isterismi E Favolette Di mercato Che poi Voglio dire Si commentano Da sole Un saluto a tutti ragazzi Sempre Forza Inter Ci vediamo al prossimo video Con Magari più notizie Nel video di domani Amala sempre Ci vediamo Domani Coedizione giornaliera Ciao ragazzi